della situazione dei campionati eri, vi parlavo del Barcellona che ha vinto con il gol numero 301 di Messi sul campo del Granada per 2-1, ecco i numeri allora della 24esima giornata in cui spicca il successo del Real Madrid per 2-0 su Rayo Vallecano e Spulso Ramos nel finale, un po' troppo nervosa la squadra di Mourinho torna a vincere l'Atletico Madrid per 3-0 sul campo del Valladolid gli altri risultati con la vittoria del Sevilla e anche quella del Valencia sul Mallorca, mentre il Real Soragozza, in situazione di classifica molto difficile perde sul campo dello Sasuna, tra poco con Leonardo Cisaroni vedremo anche la classifica della Liga Spagnola classifica dominata dalla Barcellona di Leo Messi che dopo domani sarà dicendo al Meazza con il Milan 65 punti per i Blaugrana, Atletico Madrid 53, Real Madrid 49 ormai un campionato che sembra già deciso, si gioca essenzialmente per il quarto posto per il momento il Malaga in zona Champions con 42 ma il Valencia non molla a 40, più indietro c'è il Rialzo Sedad con il Rayo Vallecano a 37 ma c'è anche il Betis Sevilla che sogna il quarto posto a 36 punti insomma ci sono 5-6 squadre in lotta per l'ultima posizione utile per andare in Champions League in FA Cup vincono Manchester City e Chelsea il Chelsea che ha vinto soprattutto grazie ai gol nella ripresa dopo il 0-0 parziale il primo tempo contro il Bradford, tra poco vedremo anche i risultati degli ottavi di finale di FA Cup eccoli qui con Newton Millwall 0-3, il Basley ha vinto sul campo del Milton per 3-1 il Blackburn ha vinto l'Emirates contro l'Artsial per 1-0 dunque Gunners eliminati in questi ottavi di finale di Coppa d'Inghilterra City Leeds 4-0, Wigan che vince sul campo di Asfield per 4-1 vi dicevo del 4-0 del Chelsea ottenuto sul Bradford mentre il Manchester United giocherà questa sera contro il Reading alle 21 finiamo il calcio estero con la Ligue 1 Ligue 1 che ha riservato una clamorosa sorpresa la sconfitta del Paris Saint Germain l'effetto Champions a quanto pare si fa sentire anche per gli uomini di Ancelotti non soltanto per la Juve di Conte il Paris Saint Germain ha perso sul campo del suo show per 3-2 clamorosa debacle dei parigini che adesso vedono avvicinarsi il Leone perché il Leone ha vinto a Bordeaux per 4-0 ed è a soli 3 punti dalla capolista tra gli altri risultati spicca la vittoria del Marsiglia di misura sul Valenciennes dell'Orient sul Levian e c'è il successo del Montpellier di misura sul Nancy per 1-0 venerdì aveva vinto il Lille contro il Rennes nell'anticipo per 2-0 vediamo allora la classifica con la regia perché in effetti la situazione per il primato non appare così scontata la corsa per il titolo dunque torna ad appassionare perché il Paris Saint Germain dopo la sconfitta con il suo show è a 51 con soli 3 punti di vantaggio sul Leone Leone che è di mezza dunque a distanza Marsiglia 46, Nizza 42, Saint-Etienne 41 questo per le primissime posizioni del campionato francese in Bundesliga continua a dominare il Bayern di Monaco con 15 punti di vantaggio sul Borussia possiamo rientrare in studio dunque Siena-Lazio per completare questa 25esima giornata poi Champions League quindi si tornerà in campo sabato per la 26esima giornata di Serie A ricordiamo che la Juventus ospiterà il Siena e Napoli andrà a Udine con l'Udinese lunedì lunedì ci saranno due partite nel posticipo Lazio-Pescara e l'Udinese-Napoli ne parleremo in questa settimana grazie per aver seguito la seconda edizione serale di 8.36 Live torniamo con il calcio di Tuff Channel alle 14.30